Non si fermano gli sbarchi a Cortone, anche sabato, altri immigrati, 58 persone, tra cui un minore, provenienti dal Pakistan, sono sbarcati sulla banchina del porto cittadino. Oltre a loro due uomini, che potrebbero essere i presunti scafisti, non solo Lampedusa quindi, ma anche il nostro territorio si ritrova impegnato nella repentina crescita del numero degli sbarchi lungo le proprie coste. I migranti sono arrivati a bordo di una barca a vela, battente bandiera americana, hanno attraversato il mare Egeo e lo Ionio e poi essere intercettati nella serata dal pattugliatore Cappelletti della sessione operativa navale della Guardia di Finanza, circa 5 miglia a largo di Capocolonna. A Cilomerina, le castelle, così come a Rocella Ionica, queste sono alcune delle località dalla parte ionica della Calabria, che sono impegnate a dover far fronte ai molti sbarchi di barca a vela in grado di raggiungere le spiagge sia della provincia di Crotone che di Reggio. In questo ultimo sbarco, intorno alle 2 di notte di sabato, i 58 pakistani tutti uomini sono arrivati nel porto dove sono avvenute le operazioni di approdo sotto il coordinamento delle forze dell'ordine. Sul porto anche il personale sanitario di volontari della Croce Rossa che hanno operato in prima assistenza sanitaria e poi hanno condotto gli stranieri nel centro d'accoglienza di Sant'Anna di Isola Caporissuto. Nei giorni precedenti si contano tre approdi con 52 persone soccorse alle castella, il 3 settembre 57 a Ciro, il 6 settembre 39 e il 9 settembre. Infine ancora alle castella 56 migranti vengono intercettati l'11 settembre a poche miglia dalla costa. I migranti che arrivano sono tutti molto provati e l'accoglienza li mette nelle condizioni di riprendersi e di scegliere la nuova vita che vogliono fare. Sbarchi che sono viaggi di speranza di chi vuole uscire da situazioni di forte e di saggio e da guerre.